ed eccoci qua anche oggi pronti per una nuova avventura ci stiamo dirigendo verso il passo frazzarego dove partiremo per la ferrata tommaselli e vediamo oggi la giornata è stupenda il posto anche spettacolare ecco pronti per una nuova avventura vero monica ok vedremo ciao a 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 ed ecco Monica che arriva sulla vetta in sulla vetta della torre antica punta fanes sud 2009 e quasi 3000 2009 89 2009 89 mi sembra no dopo controlliamo a 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